Norma De Martino, Cilento Channel, qui a Vallo della Lucania, in piazza Vittoria Emanuele. Alle mie spalle il gazebo Teleton. Continua anche oggi la raccolta fondi promossa dalla fondazione Teleton per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Con una donazione minima di 12 o 15 euro è possibile acquistare un cuore di cioccolato e offrire un valido aiuto all'importante lavoro di molti ricercatori. La campagna mira a sensibilizzare le persone. Com'è la risposta qui a Vallo della Lucania? Quest'anno causa pioggia, stiamo vedendo pochi donatori. Siamo stati il giorno 15-16 in ospedale, è andata a Benino, oggi è l'ultimo giorno di campagna sulle piazze, quindi cerchiamo di fare un po' di proselitismo affinché i cilentani e i vallesi vengano a donare. Donare con tutto il cuore significa dare una speranza a quei bambini che aspettano veramente con il cuore sincero di sconvincere le malattie genetiche rare.